Ad aiutare gli utenti a fare il biglietto per la sosta della propria auto, i volontari dell'Associazione Provinciale Vigili del Fuoco discontinui presenti questa mattina in piazza. È difficile fare il biglietto? No, è facilissimo. Come funziona in pratica? Bisogna inserire il numero di targa, poi mettere le monetine e validare. E tutto è fatto. In funzione a Trapani parcheggio a pagamento realizzato a piazza Vittoria Emanuele per arginare il dilagante fenomeno dei posteggiatori abusivi. La piazza peraltro in passato era stata teatro di aggressioni subiti dagli automobilisti che si erano rifiutati di assecondare le richieste di denaro dei trapanesi e degli extracomunitari che si dividevano la zona. Prezzo simbolico, 10 centesimi all'ora. Le strisce blu funzioneranno dal 1 giugno al 30 settembre tutti i giorni, compreso i festivi, dalle 8 a mezzanotte. Dal 1 ottobre al 31 maggio invece scluse i festivi, da lunedì a sabato, dalle 8 alle 20. A piazza Vittorio non sono previsti 15 minuti di tolleranza e bisogna inserire il numero di targa dell'auto nel ticket.